Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense Alvia, le terze dosi oggi per chi ha più di 80 anni e per chi lavora nelle crane parleremo a breve in cui faremo anche l'aggiornamento del bollettino coronavirus nel nostro telegiornale, telegiornale con tanta cronaca ma dobbiamo partire con la nuova allerta per temporali oggi in particolare sulla costa Comacchiese oltre a maltempo sono calate bruscamente anche le temperature in queste ore, sentiamo. Terminata l'allerta per temporali che ha interessato negli ultimi due giorni le zone appenniniche dell'Emilia Romagna, in regione c'è una nuova allerta arancione. Stavolta la criticità riguarda la costa dove sono attesi per la giornata di giovedì 7 ottobre 20 forti di burrasca. Nella prima parte della giornata sono previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di intensi temporali sul ferrarese e sulla Romagna. Dal pomeriggio permarranno piogge persistenti sul settore centro orientale. Dalle prime ore del mattino sono previsti venti di burrasca forte lungo la fascia costiera e di burrasca nell'entroterra. Il mare sarà da molto mosso ad agitato a largo. Le previsioni di altezza dell'onda sotto costa e del livello del mare sono prossime o superiori ai valori di soglia per l'allerta. Possibili fenomeni locali di dissesto e inondazioni che possono interessare la spiaggia e le zone più esposte. Il maltempo provocherà un crollo delle temperature già da giovedì 7. A Ferrara sono previste minime di 13 e massime di 17 gradi ma le minime scenderanno fino a 7-8 gradi tra sabato e domenica. Le precipitazioni andranno esaurendosi tra giovedì sera e venerdì mattina. Cronaca adesso ancora un arresto per droga in zona Krasnodar. Martedì sera un uomo di 24 anni di origine nigeriana è stato arrestato per aver venduto una dose di sostanza stupefacente a un cliente portato al comando provinciale dei carabinieri di Ferrara per le operazioni di rito. Ora è in libertà in attesa del processo per direttissima che si terrà in tribunale a Ferrara. Dobbiamo parlare di coronavirus. Come detto al via le terze dosi di vaccino anche nel ferrarese insieme sarà offerta anche la vaccinazione contro l'influenza stagionale. Ultraottantenni, ospiti, operatori delle strutture per anziani sono le persone che possono accedere a questa opportunità. Coloro che rientrano nella categoria di persone al momento individuata hanno due possibilità. Prenotarsi a partire da oggi con le modalità CUP e numero verde oltre che il fascicolo sanitario elettronico oppure possono andare senza appuntamento a partire dal lunedì prossimo 11 ottobre negli hub vaccinali di Ferrara Fiere, di Argenta, di Codigoro e di Comacchio. Ma intanto la situazione coronavirus nel ferrarese come si presenta lo sentiamo dagli ultimi dati aggiornati in attesa del bollettino odierno. Sono 12 su 52 tamponi refertati i nuovi positivi al covid nel ferrarese nelle ultime 24 ore. Non si registrano decessi ma c'è un nuovo ricovero all'ospedale di Cona. 22 guariti nell'ultima giornata secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica. A Cona ora sono 24 i posti letto occupati di cui 4 in terapia intensiva sui 48 disponibili. Cala il numero delle persone ricoverate nei reparti covid dell'ospedale del Delta di Lago Santo dove sono 8 i posti letto occupati su 10 disponibili. Continua intanto a ferrare provincia la campagna vaccinale. Sono state 518 le dosi di vaccino somministrate martedì 5 ottobre di cui 342 prime dosi, 159 seconde dosi e 17 dosi addizionali. Dall'inizio della campagna sono 273.340 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose, 242.665 i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose e 762 le persone che hanno ricevuto la terza dose. Ancora cronaca sono stati identificati e denunciati per lesioni personali i 5 modenesi tra i 21 e i 23 anni che la notte del 19 settembre scorso in via Coramaria Ferrara avrebbero aggredito un giovane imprenditore aderente a CNA. Il gruppo si sarebbe reso responsabile di altri episodi di disturbo e violenza in alcuni locali del centro città sempre quella sera tanto che era intervenuta la polizia in due occasioni durante il secondo intervento il gruppo si è dileguato e poi successivamente avrebbe trovato appunto l'imprenditore che è stato scambiato sarebbe stato scambiato per colui che avrebbe avvertito le forze dell'ordine così con questo motivo per questo motivo l'uomo sarebbe stato aggredito dai 5 su 3 di loro oltre alla denuncia ora grava anche un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Ferrara Cesare Capocasa e per un anno non potranno entrare nel comune estense senza autorizzazione dalla questura di Ferrara. Passiamo adesso però all'economia perché la domanda di merci corre più veloce della capacità produttiva delle imprese che invece sono rallentate dalla carenza di materie prime dal loro costo esorbitante il caro prezzi di materiali ferrosi e plastici utilizzati nel comparto delle macchine agricole un tema che sarà inevitabilmente al centro di EMA International che si terrà a Bologna Fiere presto dal prossimo 18 ottobre dal 18 al 23 ottobre ma facciamo il punto su questo tema molto delicato in questo servizio. L'economia mondiale è in ripresa ma l'impennata delle materie prime spinge i costi di produzione ai massimi storici con pesanti conseguenze su un comparto quello delle macchine agricole che utilizza in gran parte materiali ferrosi e plastici. A sottolinearlo è federe una coma con EMA i nastri di partenza. Negli ultimi due anni come industria noi abbiamo sviluppato macchine nuove, macchine innovative non solo verso l'agricoltura digitale cioè la 4.0, l'agricoltura di precisione ma anche verso l'agricoltura biologica. Esisterà un filone sull'EMA digital, esisterà anche l'EMA energy che farà vedere tutto quello che si può fare anche sull'economia circolare nel nostro settore. Il nostro settore sta andando veramente molto bene, le immatricolazioni stanno dando dei risultati impressionanti non solo rispetto al 2020 in cui l'immatricolato dei trattori cresce quasi del 50% ma anche rispetto al 2019 che cresciamo del 25% per cui il nostro settore sta godendo di una grossa salute. Abbiamo alcune preoccupazioni perché le materie prime di trasformazione, dell'acciaio soprattutto ma anche l'energia, il gas e l'energia elettrica stanno aumentando in maniera importante. Noi quest'anno siamo riusciti bene o male a gestire con le nostre scorte e con la riduzione dei nostri margini questo tipo di inflazione o comunque movimento inflattivo purtroppo in questo momento facciamo molta fatica a non aumentare le macchine finite verso l'agricoltore. Spero che questo sia solo un fattore temporaneo, non raffreddi essenzialmente quello che è questa bella crescita del nostro settore. Una situazione confermata anche da moltissime aziende come Sigma 4, azienda romagnola leader in Italia nella progettazione e produzione di caricatori frontali e attrezzi al servizio del mondo agricolo. Questo effettivamente è un problema serio, tutto è iniziato l'anno scorso potrei dire dopo le ferie, dopo il periodo estivo con una carenza di disponibilità di lamierati, il nostro prodotto è tutto fatto di ferro perché deve essere un prodotto strutturale che deve resistere a certi carichi. La carenza di materiale ha innescato quel processo di aumento dei prezzi. Questi aumenti sono stati mensili e continuativi, si sono fermati solo nel mese di luglio, quindi siamo andati avanti per quasi un anno con aumenti consecutivi. La classe degli aumenti è stata importante, si parla di 50% e oltre sul costo di approvvigionamento delle materie prime, ma è stata diversificata per tipologie. Su questa situazione che ha generato un'onda speculativa si sono allineati quasi tutti anche gli altri fornitori di materiali diversi, intendo dire materie plastiche, cablaggi piuttosto che componenti ludinamici, gli stessi imballi in legno hanno subito dei notevoli aumenti. L'azienda cerca, e perlomeno questa è la filosofia di SEMA 4, cerca di assorbire nei limiti possibili tutti gli aumenti e di non ribaltarli sul mercato esterno, fino a che questo è tollerabile e lascia l'azienda in condizioni di poter sopravvivere. Dopodiché inevitabilmente deve rifare un listino. Passiamo ancora alla cronaca scoperto a Ponte Lago Scuro, un deposito abusivo di rifiuti speciali. I carabinieri della forestale di Ferrara, insieme ai militari della frazione della prima periferia cittadina, hanno sequestrato il deposito di 700 metri quadri, che vedete in queste immagini, martedì pomeriggio il blitz, dove è stato trovato un po' di tutto, lo vedete in questo deposito. Due persone residenti a Ferrara, di cui una di nazionalità nigeriana, sono state denunciate per reati di gestione illecita di rifiuti e gestione di veicoli fuori uso non autorizzata. Sono state approvate dalla giunta regionale le linee guida tra le prime in Italia per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici con norme più semplici e nuove regole previste, installazioni anche sopraelevate nelle ex cave, tornate a uso agricolo per non sottrarre così suolo alle coltivazioni. Ma sentiamo tutte le novità. La regione Emilia Romagna a favore del fotovoltaico e dell'energia rinnovabile. È quanto emerge con l'arrivo di specifiche linee guida per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici sulle aree di cava dove si è conclusa l'attività estrattiva. I nuovi impianti, fino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione, potranno partire con una semplice comunicazione. Lo stesso nelle zone industriali e commerciali, oltre che su discariche non più attive. La giunta regionale, tra le prime in Italia, ha infatti approvato nuove norme che semplificano l'iter necessario all'avvio degli impianti solari e dettono indirizzi attuativi in particolare sull'utilizzo delle ex cave da applicare a tutte le istanze di nuova presentazione. ARPAE, l'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale e l'energia, darà vita ad una nuova struttura operativa interna per assicurare uniformità e coordinamento nell'applicazione delle disposizioni sull'intero territorio regionale. Si tratta di scelte che l'assessorato all'ambiente ha portato avanti con decisione, in linea con le istanze dell'Assemblea legislativa e con gli obiettivi del Patto per il lavoro e il clima, per raggiungere la neutralità carbonica entro 2050. Per le aree estrattive in particolare, debuttano norme che disciplinano il solare galleggiante posizionato direttamente sull'acqua. In quelle restituite a uso agricolo si promuove invece l'agrovoltaico, con l'integrazione della presenza di coltivazioni e impianti di produzione di energia grazie al ricorso a tecnologie innovative. Nelle aree restituite a uso agricolo potranno essere installati pannelli a terra solo se non coltivate, altrimenti vale il limite del 10% della superficie complessiva. Nessuna possibilità di sfruttamento energetico è contemplata infine nei casi in cui per la cava si è programmato un recupero ambientale, con interventi di rinaturazione, piantumazione e ripristino della vegetazione. Cultura adesso. Ieri mattina nella conferenza stampa di presentazione della stagione lirica del teatro comunale. Era presente anche il maestro Leone Maggera, neopresidente onorario del teatro Claudio Abbado, collaboratore a fianco dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, spesso al lavoro con Luciano Pavarotti. Maggera ha raccontato anche il suo rapporto con Aldo Ferraresi, cittadino estense, primo violino della Scala di Milano che venne salvato da Maggera dalla sua famiglia dalla deportazione. Ma sentiamo allora prima la soddisfazione del neopresidente per la nomina di poche settimane fa, partendo però dalle parole dell'assessore alla cultura del comune di Ferrara Marco Gulinelli. Qui si aggiunge un elemento assoluto, di assoluta grandezza, che è la presidenza onoraria a un grande maestro come Leone Maggera. E uso le sue parole perché prima mi ha emozionato, voglio realizzare una sorta di asilo nido all'interno del teatro per i cantanti. Il maestro è Leone Maggera e sappiamo che i suoi allievi sono stati Lafreni e Luciano Pavarotti, per cui in realtà una garanzia di assoluta qualità a livello mondiale, quindi siamo molto contenti anche per la presentazione di questa stagione lirica qui al nostro teatro comunale a Bado. È stato un grande onore, anche perché è così che con questa liaison fra Modena e Ferrara, io sono venuto a lavorare a Ferrara giovanissimo, abbiamo fatto un Don Giovanni di Mozart con Cesare Siepi e sono molto legato alla città, sono onorato e felice di lavorare qui. Maggera era amico di Aldo Ferraresi, cittadino estense scomparso nel 1978 a 76 anni, grande e violinista. Il nazifascismo e la guerra pesarono sulla sua famiglia anche per il fatto che la madre era di origine ebraica. Maggera e la sua famiglia aiutarono Aldo Ferraresi. Io ero bambino, avevo sei anni circa durante la guerra, mio padre era militare, era anche un graduato importante, insomma era tenente colonnello, però pur essendo tenente colonnello cercava di salvare gli ebrei, perché era una persona molto umana e l'abbiamo ospitato in casa, nascosto in casa, sul lago Maggiore e dopodiché gli ha organizzato un'espedizione in Svizzera, nella vicina Svizzera, con un motoscafo noleggiato e si è salvato, insomma. L'è stato due mesi, io suonava sempre, studiava, io lo ascoltavo a bocca aperta perché era grandissimo e dopo la guerra ha inaugurato la stagione della RAI suonando per la prima volta il violino di Paganini da Genova alla radio e poi l'ha portato alla Scala, insomma è stato in tanti teatri importantissimi. Oggi mi sono commosso facendo in macchina il viale Aldo Ferraresi, veramente mi sono commosso perché lui mi è stato anche vicino dopo, che l'abbiamo anche salvato in un certo senso, perché l'abbiamo aiutato ad andare in Svizzera e dopo è tornato in Italia, ha fatto un concerto a Modena e siamo stati molto vicini, poi anche in seguito ci eravamo molto legati con Ferraresi. E in questa occasione, in questa conferenza in cui abbiamo raccolto questa bella intervista è stato presentato anche il cartellone della stagione lirica 2021 appunto del Teatro Comunale di Ferrara in programma tra il 29 ottobre e il 31 dicembre. Allora sentiamo quali sono i nomi, i titoli degli spettacoli che ci attendono da qui fino a fine anno per la lirica al Teatro di Ferrara. Sono quattro titoli praticamente in tre mesi, apriamo con Madama Butterfly, è una coproduzione che facciamo col Festival di Spontini e di Iesi con il Teatro di Treviso e altri teatri all'estero, Madama Butterfly è una delle cose per le quali vale la pena di vivere direi. E poi andiamo a novembre con un'opera di Masné, il Werther, ispirato ovviamente ai dolori del giovane Werther di Goethe, che vede il protagonista Francesco De Muru acclamato a New York, al Metropolitan, presente in tutti i teatri più importanti del mondo, è un onore per noi averlo qui e poi andiamo su due produzioni che sono state pensate, fatte, realizzate qui a Ferrara. Una è la Maria de Buenos Aires di Astor Piazzò, la musica meravigliosa, infinita. L'abbiamo costruita qui, ha già debuttato a Ravenna, poi andrà anche in altri teatri, a Lucca, a Pisa, a Chieti e ospiteremo qui a dicembre, il 18-19 di dicembre e poi una cosa meravigliosa, dopo quasi 300 anni restituiamo onore e gloria ad Antonio Vivaldi che scrisse una versione del Farnace per Ferrara per il Carnevale del 1738. Il legale pontificio gli impedì di rappresentarla perché era chiacchierata una sua relazione con una sua figlioccia, in realtà era una cantante che lui aveva scoperto, aveva portato in giro per tutta Europa a Negirò e lo accusarono di questa relazione, lui era prete e quindi gli impedirono di rappresentare per il Carnevale del 38 al Teatro Bonaccossi di Ferrara il Farnace e invece noi lo faremo ritornare a Ferrara diretto da Federica Maria Sardelli, il migliore direttore vivaldiano che si possa avere nel mondo. Ci sono anche forse ferraresi, il coro di Santo Spirito. Cambiamo adesso totalmente argomento e andiamo in provincia e torniamo in provincia di Ferrara dove ha preso il via la campagna di raccolta del novellame nella nuova nursery all'interno del porto canale di Porto Garibaldi. Sentiamo. Lo scorso 4 ottobre le cooperative socie del Consorzio Tre Ponti hanno dato il via alla prima giornata della campagna di raccolta del novellame della nuova nursery all'interno del porto canale di Porto Garibaldi, recentemente istituita dalla regione Emilia Romagna per regolamentare il prelievo del novellame da reimmergere nelle concessioni per l'allevamento delle vongole. La raccolta viene effettuata come da ordinanza della Capitaneria di Porto su tre turni da un'ora e mezza ciascuno, in modo che tutti i 330 soci delle 35 cooperative associate al Consorzio Tre Ponti possano prelevare il quantitativo di prodotto a loro spettante. La nuova nursery, così come le aree che si trovano all'interno della sacca di Goro, è attualmente gestita da un comitato che comprende tutte le cooperative di Goro e di Comacchio titolare di concessioni per l'allevamento delle vongole. A breve al comitato subentrerà con uno il Consorzio Cooperativo Unitario, costituitosi quasi un anno fa per gestire le aree nursery delle due marinerie. Il Consorzio Tre Ponti di Comacchio ha avuto in carico temporaneo dal comitato di organizzare questa prima campagna nursery e ora le imbarcazioni delle singole cooperative si alterneranno turno dopo turno nella raccolta. E con questo è tutto, io vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale, vi ricordo telestense.it e i profili social. Grazie per l'attenzione e buona giornata.